ciao ragazzi eccolo ciao a tutti proviamo a salvarci ma stavolta davvero dura stavolta veramente un casino proviamo ancora la spagna è sì il nostro squadrone ci stiamo prima legge non era un vittorio se c'è un bel stronzale l'asso ecco la formazione di piemonte anche questa è vero in buonnessa attaccanti di movimento schierati larghi e una punta centrale occhio soprattutto la rapidità degli stermi nell'opolo potrebbero mettere in grande difficoltà il fattore ecco l'undici della formazione la sua parte di in difesa con carvacal sergio busquez insieme nella zona centrale guaiare il piede possibilità per la ripartenza bravo no vaffanculo da gascosta di bana no la assi inizia a parte buonare no no quella ricorda come ha fatto il ecco mappio ah ha la palla guaga eh uccendo fuori un tiro completamente sballato astamente siamo in realismo ci facciamo guaiare passaggio da dimenticare palla regalata agli avversari bella 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 bello, Davide ah, Ronaldo Tiago Alcantara occhio, bravo attenzione perchè questa volta è un'attaccia che guarda lontaggio è un servento decisivo che salva la porta eh, non ci va a facere lui la razza guarda questo ma che cazzo ha preso maiala ma che cazzo ha preso, porca maiala ancora non mi capacito no, ma si era lì dietro per il gioco oioioio eh 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 vai un cazzo ma ecco ho del lavoro questo giocatore si è involato e nessuno è riuscito a fermarlo uno spettacolo hanno aperto le marcature con questo gol uno a zero che squadra di merda Tiago Alcantara continua il tiki taka alla ricerca del momento giusto ma che cazzo fanno ma che cazzo fanno me lo vado a incastrare in due lì bella oi maiala davvero intanto a loro li passa sotto le gambe non corre le rischi sceglie i pugni ehemla cazzo fanno cazzo fa cazzo è cattivo ancora lui è sempre lui è sempre Rodrile ahaa esce a querido pensavo pensavo giusto, sì bella palla vai alas buona lettura dell'azione ha intercettato bene il passaggio vai no tebranis è vero oh io a partire ronaldo, tiro dietro tutto palla cazzo oh la qui, la qui, la qui allora leo lì dai 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 eh così, proprio piano sia un passaggio se neanche mi ha fatto apri gli angoli ora bruttella su ma quindi l'azione d'attacco spazza via Sergiano che sarà Douglas Costa Papaghello, basta giocata di qualità per rinforzare il pallone va beh, spiego là occhio ho visto partire bene lì ma mi piaccia non ci vedo 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 l'hanno scampata bella qui un po' di fortuna ogni tanto non guasta mamma mia la poste bene anche io dai culo un po' di gioco cazzo è uno specialista di questi inserimenti alle spalle dei difensori ma stavolta è scattato in anticipo occhio, 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 occhio non ci sanno via, via, via ma non è finita ma si è Yada ha pulito l'area concedendo il calcio d'acqua ma che sei scemo dove ha fatto tutti i versi e voleva ha visto occhio ai soldi Pjanic calcio d'angolo battuto male Alessandro Higuain la spazza via che sei scemo Pjanic Cristiano Ronaldo è Piela una volta Piela cazzo riconquista il possesso di palla pallone recuperato senza problemi nooo non ci ha passato hanno perso palla non lo passare anche la profondità però ho detto Massimo il contropiede è chiaramente no 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 cazzo passaggio no eh per portarsi battaglia è una grande occasione non sa se capiterà ancora gli anni 80 stampe venì Cristiano Ronaldo oh mamma io Cristiano ma vabbè ma vabbè ma sempre il pareggino il pareggio ti incazzo tutte le volte allora uno è il nostro si figlia sempre il solito golli no? non ci ha perso vincere una partita mazz è la Spagna ma notare il primo pallone della ripresa rodrigo mamma mia mamma mia da glas costa Higuain tu, tu, bravo intervento deciso su no 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 di ciò scelta in attenzione vada ancora viva conclusione murata il rinvio di Bonucci questo messica è in bilico come testimonio eh ma ero libero io devo andare da solo cioè c'è arrivava un portico però è apposto e vincerela fin qui abbiamo assistito a gol in occasioni da reddito da una parte dall'altra vedremo chi ne avrà di più prova in porta no gli è rimasta lì eh si ma il portiere deve fare pifo mi sento no a lontana Sergio Ramos a vaffanculo ha segnato il momentaneo gol del pareggio può affrontare la seconda oi 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 no no non basta sti bilacci non basta sti bilacci comunque mi è riuscito a riprendere i punti no no pronta alcio no no è vero bravo bravo no come cazzo è possibile occhio cerca l'area di ricordi no mi è stendendo il mio ha spazio per il cross Douglas Costa buona la chiusura hanno spazio per andare in contropiede Bravo, male, ma la brucia, no, certo. Ahia, questa è bruciata. Anculata. Vai, maiale. C'è un assedio, no. Lui è il sassare È volato lì Poi Da vedere Devi fare Vai S'arriva No no Bene Ma era il nostro fermo Lì Ma Possesso per la Spagna Vai Maiala È tre ore Rodrigo Rodrigo Tiago Alcantara C'è 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 n'immo Dai la falla Vaffanculo Ti finisco No Sarà fuori show No Anni 80 Violente Giocata di qualità Per intercettare il pallone Attenzione a Di Bala E c'è la presa sicura Del portiere No Ci vedi Bravo Oh nulla 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 Intercetta bene il passaggio E non era facile Di Bala Palla vaganto No Via via Bravo Andiamo da Matteo Barzaghi Quanto c'è da giocare Matteo Si giocherà per altri 15 minuti Prima del novantesimo Grazie Matteo Puntuale come sempre Bravo Oh Scansà il coglione Dai Ma il cazzo Vigli agli le gambe Oddio Oddio Da lì No no Su questi forti Questi sono forti veramente Partico Partico Buona L'esecuzione Molto meno Nessun problema Nel portiere Ci ha battato Iguaino Bravo Bravo Matuidi Daglas Costa Gran palla in Lui Oioioi Imana Provo a piazzare E Guarda il portiere Torniamo qui Bene va bene Perché è nata L'affazio L'avete a te le vanno Punti Siamo entrati negli ultimi cinque minuti di gara Noi adesso bravi Ma Matuidi Grande intervento Oh Se sta In un momento cruciale Nel tiro sanno battere anche sai No 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 E Attenzione Oh 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 Possiamo aspettarci tutto da lui eh Si trovano degli avversari anche vaffanculo eh porca Eh divisione 2 eh Eh Divisione 2 il delirio Questo c'è più meritato eh Cioè questo ci sta in pareggio Anzi forse andà anche bene il pareggio per il momento Sì Iguain Questo è veramente forte Che ciò hanno anche bene gli squadroni E ti chiascivi qui i passaggi Madrigo Ma questo è il pallone con un buon intervento Bloccavano tutto Ma ci sono ancora 120 secondi da giocare Due minuti che potrebbero regalarci ancora emozioni e spettacolo Bravo C'era spazio ma l'hanno cessita male Nooo Un match che finisce in varietà senza viva e vincisione Eh Pareggio è stavolta giusto Hanno superato se stessi per ottenere questo punto Ah eh In chiave salvezza Dovranno Vabbè questo è stato sul petto davvero Per retrocessione Eh ancora no Ancora no Cazzo Metti da un Un call per lui oggi Ma che sei grugo Che a tutti possiamo match Con una prestazione di